A Dio piacerebbe se diventassi madre. Non sono fatta per quella vita. E per quale vita saresti fatta? Lei farà la volontà di Dio. Perché non dovrebbe seguirlo? Saremo giudicati. Noi vogliamo che il popolo insurga. Non sapevo che fossimo soldati. È questo che si prova quando si è uniti a Dio. Nessuno mi ha mai chiesto cosa si provi. Se tu ami mio figlio, non è vero? Allora devi essere preparata come me. A cosa? A perderlo. È il profeta del diavolo! Il regno di Dio non si può comprare né vendere! Qualunque cosa succeda è Dio che glielo chiede. Sei la mia testimone. Sarò con te fino alla fine. Non parlare mai più a suo nome. Non resterò in silenzio. Mi ascolteranno.